mister benvenuto a radio bruno grazie complimenti per quello che ha fatto non si finisce mai diciamo così di di stringere la mano perché ha fatto una roba una roba storica e le chiedo subito visto che siamo in radio qual è stata la colonna sonora di questa grande stagione mister storica ma è la colonna sonora sono i ragazzi che hanno cantato e che hanno portato una musica bella l'hanno fatta vedere l'hanno fatta sentire l'hanno fatta come l'hanno trasmessa ai nostri tifosi è la cosa più bella è tutti i nostri tifosi si sono riconosciuti in questa bella musica ma io ho studiato un po' so che lei ama a ogni tanto preparare qualche allenamento in solitudine con della buona musica nel suo studio nessuno sono in un angolo di spogliatoio ci dica un po che musica ascolta tende ad ascoltare diciamo così no beh praticamente a me piace tutta la musica quando è chiaramente quella che italiana e di ogni genere e nell'ultimo periodo devo dire la verità che le musiche di sanremo sono state dopo sanremo sono state comunque parte del nostro spogliatoio e poi una che suonava spesso nel mio ufficio che era diventata una barzelletta anche per lo staff era quella dei money skin torna a casa marlera marlera quella andava messa a prescindere sempre però sempre perché io sono un grande lettore come lei io ho letto nella sua tesi che c'è un episodio che mi piace sottolineare a manchester durante prima in un prepartita lei ascoltava pino daniele davis edgar davis ascoltava rocky a palla e lei lo poteva sentire anche se aveva le cuffie quella è la dimostrazione al di là dello stile di musica che è assolutamente personale e individualizzato e però quello poi mi è servito e mi serve che ognuno arriva alla gara in maniera diversa e ognuno ha bisogno del proprio stato d'animo e per questo adesso che mi trovo dall'altra parte come allenatore mi sento di rispettare ogni giocatore nella sua pregara in maniera personale quindi ognuno deve trovare il suo stato d'animo il suo stato psicologico in maniera assolutamente personalizzata mister ma 50 anni di solito si fanno dei bilanci io vi chiedo pecchia che figlio è stato che uomo è che padre è che marito è insomma un figlio che non c'è stato mai a casa questo perché sono andato via troppo presto per l'età e quindi ho cercato di essere ora che passano gli anni prima di solito sono i genitori si vogliono godere i figli poi passano gli anni sono i figli vogliono godersi i genitori adesso che mi rendo conto che cominciano a essere un po più vecchietti miei mi piace per quanto mi è possibile stare vicino e un papà un papà anche qui per quanto mi è possibile presente però mi rendo conto che fino a qualche anno fa la famiglia stava sempre con me anche a madrid è stata con me e a verona quando allenato è stata con me poi da qualche anno praticamente un po le strade si sono l'ho dovuto comunque dare un una pausa perché portarli in giro è complicato hai scelto Bologna non è distante da qua? sì ho scelto Bologna perché è una città nella quale ci siamo trovati bene mia moglie quando io giocavo e quindi quando bisognava fare una scelta tra Roma che era un po più vicino e altre città abbiamo scelto Bologna che è un giusto compromesso per per mentalità modo di vivere ma soprattutto anche per le opportunità e le strutture perché l'Emilia Romagna mi rendo conto che è una è una bella regione per regione tema famiglia sempre se le dico l'Enola che pensa mi sta ce la racconto un po che che infanzia ha fatto l'Enola ma l'Enola per me il mio rifugio io appena ho la possibilità anche la famiglia è 8-4 8 mesi fuori e 4 mesi all'Enola dove siamo stati dove viviamo il vero che siamo a Bologna però appena c'è la possibilità nei mesi estivi li passiamo praticamente all'Enola perché ci sono le nostre famiglie perché ci permette di vivere molto vicino al mare ma anche con un clima di molto temperato fresco perché è a 20 minuti dal mare però ci permette di fare anche delle buone vacanze stando vicino ai familiari c'è un episodio che la lega alla sua città natale anche di quando era bambino magari ma mi lega tutto perché perché è vero sono stato poco lì però fino a 12 anni poi sono andato via però lì il fatto di avere la famiglia di avere i genitori anche mia moglie di l'Enola e quindi mi lega tutto il fatto di vivere sulle d'estate comunque è un legame forte si parla di calcio a casa Pecchia io le racconto una scena piena festa in piazza Garibaldi a Parma 10.000 persone c'erano i suoi familiari in un tavolo al centro della piazza che mangiavano una pizza con lei bella scena bellissima scena nell'ultimo periodo devo dire che mia madre non vedeva una partita forse erano 30 anni e la prima partita la rivista la partita forse più importante che abbiamo dovuto giocare era quella con lo Spezia e quando ancora insomma i discorsi erano molto aperti poi ci ha preso gusto e ha visto anche la partita con il Lecco ha visto la partita con la Cremonese e con la Cremonese è venuto anche mio padre mio padre che non ha mai seguito una partita nonostante sia stato il mio primo allenatore però da quando ho cominciato a giocare forse dopo il primo anno il secondo anno di Napoli lui veniva allo stadio poi usciva e anche credo con la Cremonese abbia fatto lo stesso è entrato dopo un quarto d'ora 20 minuti credo che sia uscito e abbia visto più le strade intorno al Tardini che non la partita è severo il suo padre nel giudizio ma no è molto critico lui ogni tanto mi dice ma io non metto il libero dietro il difensore ma metto il difensore in più e porta i ragazzi in ritiro vabbè ma è un modo di chiaramente di una prospettiva diversa diciamo che si tifa Pecchia a casa Pecchia si si tifa la squadra in cui lavoro, in cui ho giocato sono stati i tifosi del Napoli, del Bologna, della Juve, della Vispa Fukuoka, del Real Madrid di tutte le squadre nelle quali ho lavorato è stato più difficile diventare allenatore o laurearsi in giurisprudenza sono due cose molto molto impegnative e complicate due percorsi diversi e per me la laurea è stata quando dopo la laurea ho detto vale più della Champions perché io qualche anno prima l'avevo persa ad Amsterdam con la Juve però il percorso universitario è durato dieci anni cercando di abbinare le due cose calcio e lo studio ma anche le esigenze familiari perché poi mi sono laureato quando avevo già due bambine quindi è stato un bel lavoro c'è qualcuno ancora che la chiama avvocato? quasi tantissimi e in tanti poi alla fine ho detto è stato un abuso di titolo ma forse sì, ormai sono passati quasi vent'anni perché avevo fatto un esame in giurisprudenza e in quell'anno arrivò Vujadin Boscov mi vede a studiare e mi disse cosa studi giurisprudenza? ah avvocato e da lì avvocato, avvocato è partito il titolo è stato Vujadin Boscov l'allenatore più importante per la sua carriera oppure ne ha avuti altri di recente mi è capitato di parlare anche con Guidolin che ha speso chiaramente delle parole bellissime però nella sua formazione no, per me io non posso escludere nessuno ho avuto tanti allenatori e tutti importanti per la carriera di giocatore ma anche adesso per la carriera di allenatore non posso escludere nessuno anche quelli con i quali non ho avuto un bellissimo rapporto con i quali non c'è stato un grande feeling poi è chiaro con Vujadin c'è stato un rapporto stretto, forte con Gigi Simoni e anche con Lippi e con Simoni Guidolin quelli è un rapporto un po' più profondo però non posso anche Spalletti ho lavorato con Spalletti cinque mesi ma sembra di aver lavorato molto di più per il legame che poi si è portato per tanto tempo tutti, tutti importanti mister, un po' sull'attualità come si svolge la sua giornata da allenatore del Parma? a me lo sono sempre chiesto pecchia, si sveglia il mattino? mi sveglio molto presto perché fare via la spezia in un orario è veramente complicato quindi mi trovo nel centro sportivo alle sette e mezza e da lì poi segue tutta la giornata e il primo contatto ce l'ho con le donne delle polizie con Francesco che è all'ingresso e mi piace condividere le prime ore della mattina con le persone che lavorano nel centro con lo chef, con Simone e poi da lì inizia il lavoro il contatto con tutto lo staff cosa le piace di Parma? oltre a Vianna Spezia? ma Vianna Spezia mi piace poco mi piace anche questa serenità questo modo di stare di vivere la città di vivere lo sport e la soddisfazione più grande è proprio perché anche con il sindaco che quando ci siamo insomma nell'inaugurazione parlava di un tifo non mi ricordo bene la parola però sembra un po' distaccato ma ci mette un po' di tempo per creare il rapporto però poi quando si crea è forte e la dimostrazione credo sia stata proprio in piazza nel post Cremona dove c'è stato un abbraccio straordinario inatteso però poi alla fine questa è la dimostrazione che quando poi si è creato questo clima squadra il pubblico il pubblico di Parma ha risposto alla grande rimanendo in clima festa mister io ho avuto la fortuna di accoglierla dopo Bari lei era appena arrivato io volevo però chiederle quale è stato il suo primo pensiero dopo il triplice fischio ma ce l'abbiamo fatta perché il periodo finale è stato molto formativo per tutti per me ma anche per i ragazzi perché dopo una cavalcata del genere vedere essere molto vicino all'obiettivo ma arriva ma non arrivava e il triplice fischio finale è stata una non una liberazione però dire ce l'abbiamo fatta è stata bella il primo messaggio che ha ricevuto immagino sia da parte dei suoi familiari chi l'ha scritto per primo suo padre? ma no no non mi ricordo tanti tanti veramente tanti però a Bari c'era mio fratello c'era mio nipote quindi qualcuno c'era e quando si muove mio fratello è sempre molto forse il più critico di tutti però quando si muove lascia sempre dei buoni segnali le chiedo le chiedo anche questo le chiedo adesso si entra un po' in un periodo di calcio mercato credo che lei non sia felice di sentire parlare di mercato però come ogni allenatore però questo dura abbastanza Pedersoli ha rinnovato le chiedo di esse che l'ha voluta le chiedo che significa per lei e quando rinnova pecchia se rinnova beh allora questo è un ovviamente mi fa piacere molto il fatto di poter continuare ancora il lavoro con con Mauro Pedersoli lavoriamo insieme da due anni diamo continuità anche un segno di di stabilità e di condividere un percorso e da qui in avanti adesso c'è c'è lavoro da fare ma come del resto è stato sempre fatto con in totale condivisione con il club mantenendo fermi e stabili alcune linee perché per affrontare un campionato che è nuovo il prossimo il prossimo a rinnovare sarà lei allora ma questo è un dato che poco importa in questo momento ci sono delle priorità le priorità erano evidentemente queste e ora è la formazione di una squadra che possa competere per il campionato di serie lei nella sua testa si scrive ultime due domande ultime tre domande lei nella sua testa si scrive parla di rapporti comunicare allenando allenare e comunicare che rapporto ha con il suo staff Fabio Pecchia beh è un rapporto molto diretto è uno staff che che a Parma è molto allargato perché ho trovato un club molto organizzato con tante persone che lavorano intorno alla squadra e ho cercato di di creare un unico staff e credo questo per me sia una gran bella soddisfazione non c'è il mio staff e lo staff del Parma ma c'è un unico staff che lavora quindi un rapporto assolutamente diretto mi piace stare in avere una comunicazione assolutamente paritaria stare sullo stesso livello e chiaro che poi alla fine bisogna fare delle scelte dare delle linee guida e questo tocca a me farlo però nei rapporti mi piace mantenere un rapporto assolutamente paritario allenare comunicando il titolo della sua tesi chi l'ha messa più in difficoltà tra i giocatori allenati chi è stato quello tra virgolette che ha avuto un po' di non di rimostranza ma con con il quale Pecchia ha fatto un po' più fatica perché sono cresciuti tutti a me viene in mente una crescita esponenziale di Bonni ma io devo dire che tutti mi hanno dato filo da torcia perché è stata complicata e posso dire poi alla fine la cosa più bella è vedere la crescita di tutti i giovani però tutti tutti mi hanno fatto sudare ma perché perché è l'età e quando uno deve rapportarsi con dei giovani così freschi perché veramente il nostro è una squadra molto giovane e competere per vincere e vincere e cercare di creare squadra devo dire che è stato veramente complicato non complicato impegnativo però questo per me è abbastanza naturale perché lavorare con i giovani comporta questo ci vuole lavoro ma ci vuole pazienza l'ho sempre detto di parlare di pazienza fiducia fiducia in loro e ci vuole del tempo perché un tempo fisiologico deve affrontarlo quindi non posso dire che con uno è stato più facile con tutti è stato veramente molto impegnato adesso siamo fuori dalla zona calcio però io richiedo un aneddoto che anzi un particolare che non ha mai raccontato di questa splendida cavalcata qualcosa che le è rimasto veramente le ha fatto capire tipo quest'anno è l'anno giusto ma io non è l'anno giusto io dal primo giorno che ci siamo trovati a Collecchio e poi siamo andati in ritiro in montagna non c'era un episodio ma il modo di stare insieme mi dava delle bellissime sensazioni il modo di voler fare ogni cosa dall'allenamento alla cena alla colazione o fare un viaggio e ogni partita amichevole era continui segnali di voler stare insieme e dico sarà un anno bello impegnativo ma lo è stato quindi ogni partita anche quel piccolo trofeo vinto a Ilce che per il valore che uno può dare a quella partita però è stato un segnale bellissimo il voler condividere voler festeggiare voler stare insieme e voler vincere e volerlo fare insieme e insieme avete fatto anche un torneo di padel all'interno io so che lei ha giocato in coppia con Veyens è più bravo da amministratore delegato o da giocatore di padel questo devo dire la verità è stata insomma sul campo abbiamo lavorato insieme 18 mesi forse qualcosa in meno da quando è arrivato però padel è troppo forte cioè il suo livello è alto rispetto al mio per cui io devo io faccio il comprimario quando gioco con lui chiudiamo mister con due consigli un libro che allora un consiglio un libro per l'estate ai suoi ragazzi è una canzone per l'estate ai suoi ragazzi deve scegliere due titoli ma non ne so guarda io leggo di tutto ho letto leggo pochi romanzi ma molti saggi quindi non posso dire ognuno deve leggere quello che deve che si sente perché e poi il diritto del lettore è proprio quello leggere quello che vuole e soprattutto quando vuole come vuole questo è e sulla musica insomma la musica deve far parte io quando parlo anche ai miei ragazzi noi giochiamo dobbiamo fare musica deve stare dentro la musica la squadra deve essere una musica il calcio deve essere musica e quindi per me calcio e musica sono due cose che vanno di pari passo grazie mister complimenti ancora grazie e grazie a me